Il bilancio del trasporto pubblico nel Lazio e in Italia in generale è desastroso. Perché il servizio è così scadente? Ecco, potrebbe verificarsi questo per mancanza di una meglio organizzazione nell'azienda pubblica che la parte dirigente gestisce male per come deve funzionare e quindi ci vorrebbe un maggiore coordinamento affinché il servizio può essere migliore in modo che i cittadini possano avvalersi del servizio per le sue esigenze giornaliere. Lo scandalo dell'Atac e di altre partecipate costantemente in rosso non ci fa pensare che bisogna avere un modello di gestione di queste società differente? Il fatto di queste aziende che sono in crisi ne viene anche dal fatto che secondo il nostro modo di vedere manca una certa maggior responsabilità dalla parte dirigenziale e in quanto non sa bene organizzare per come dovrebbe far funzionare al meglio il servizio e quindi ne viene anche meno per questo fattore che spesso nei mezzi pubblici che sono affollati e quindi i cittadini si avvalgono di questo mezzo però all'interno ci sono molte che non corrispondono al pagamento del biglietto e quindi sono meno in casa che va dentro l'azienda ci vuole un maggior controllo, sarebbe anche utile magari fare un investimento sull'occupazione affinché all'interno del mezzo pubblico ci siano anche altre persone che controllano e che controllano se tutti i passeggeri hanno adempiuto al pagamento del biglietto nello stesso tempo potrebbe essere anche una garanzia per i cittadini stessi ma anche per i conducenti degli automezzi e si rivederebbe anche di come dire queste cose che sono successe negli ultimi tempi che magari qualcuno sento che trova all'interno una persona sola possono fare anche delle cose che non sono civilmente accettabili è statisticamente provato che il trasporto pubblico non è solo un servizio per il cittadino ma è altrettanto importante per le imprese nei paesi europei dove c'è un servizio di trasporto efficiente ne beneficiano anche le aziende perché invece in Italia non si investe abbastanza sul trasporto pubblico? Certo, questo si dovrebbe investire maggiormente sul servizio pubblico proprio per coordinare meglio e fare che siano più puntuali nei tempi in modo che il cittadino è più incentivato ad avvalersi del mezzo pubblico e non quello privato e di conseguenza non solo che ne beneficia il cittadino perché trova un mezzo efficace ma ne beneficia anche le aziende che possono contare sulla puntualità anche delle persone che si regolano al lavoro che spesso invece si vengono a verificare ritardi non indifferenti e questo va a discaputo sia per la collettività sia anche per l'azienda grazie grazie grazie